Volevo approfittare per ringraziare l'onorevole Muroni per aver portato l'attenzione dell'Aula a un tema così sentito e così attuale come quello dei fitofarmaci, dei pesticidi e diservanti. È un tema che ha visto anche delle raccolte di firme importanti, un milione di firme contro il glifosate, sono sicuramente un dato da tenere in forte considerazione e le istituzioni devono tenerlo in considerazione. Devono farlo però con un approccio scientifico per dare ai consumatori quante più informazioni su base scientifica possibile per evitare che poi si legiferi sull'onda dell'emozione e dell'emotività, cosa che abbiamo già visto essere assolutamente lesiva sia per la salute umana prima ma anche per gli stessi agricoltori dopo nel caso della Axilella in Puglia dove per un periodo di tempo si è tergiversato, anzi si sono paragonati addirittura gli abbattimenti degli alberi alla Shoah, usando un paragone assolutamente fuori luogo, quando invece si sarebbe dovuto intervenire in maniera molto più rapida salvando così molti di quelle culture e anche il reddito di tanti agricoltori pugliesi che oggi sono in oggetteva difficoltà per la strumentalizzazione a volte assolutamente fuori luogo che è avvenuta in quei luoghi. Quindi cerchiamo un approccio assolutamente scientifico e cerchiamo di inquadrare quale sia l'ambito italiano del quale oggi discutiamo premettendo che i dati Istat, grazie a Dio, segnalano che c'è una forte riduzione di quelli che sono i fitofarmaci oltre che dell'impiego generale dal 2006 ad oggi e c'è un trend che riduce, porta a ridurre da parte degli agricoltori anche grazie alle politiche della PAC e anche grazie a una coscienza comunque di sviluppo di agricoltura solidale che gli agricoltori in Italia hanno, si sono ridotti i fitofarmaci di origine chimica e sono aumentati quelli di origine naturale, quindi da una consapevolezza già che c'è nell'agricoltore di dover tutelare in maniera molto più presente e puntuale la terra perché di terra poi loro ne fanno un lavoro. Però bisogna anche contestualizzare che è vero che l'Italia usa un massiccio uso, fa un massiccio uso di ricorso di pesticidi ma è altrettanto vero che l'Italia è caratterizzata alla presenza di un'ampia varietà di produzioni ortofrutticole, le quali sono le stesse che impongono un maggior uso di fitofarmaci. È chiaro che in Nord Europa, laddove il clima è diverso e le coltivazioni sono diverse, l'impiego di questi fitofarmaci sono assolutamente relativamente più bassi. Dobbiamo tener conto anche, e lo abbiamo visto in Aula come questo Parlamento, questo Governo gli va dato atto, si sia concentrato sui piccoli prodotti locali con una legge, si sia concentrato sul biologico con altrettanta serietà e puntualità, tant'è che la Commissione Agricoltura è una delle commissioni che oggettivamente ha partorito ad oggi più provvedimenti in Aula. Quindi la linea di questo Parlamento, quasi all'unanimità, è stata quella sempre di favorire questo tipo di agricoltura, che non potrà essere l'unica agricoltura presente in Italia, perché ad oggi risulta ancora difficile riuscire ad essere indipendenti sotto il profilo dei fitofarmaci, ma di ridurne l'uso assolutamente, il trend è assolutamente positivo, e questo ha portato ad essere una delle nazioni, anzi la nazione, con la più alta percentuale di coltivazioni biologiche in Europa. Questo è un dato da cui partiamo volentieri, ma che ci inorgoglisce e che ci fa capire che in Italia c'è una forte richiesta sia di questi prodotti, che anche se pur vero a volte ancora un po' troppo costosi, quindi non di largo respiro, di largo utilizzo, proprio perché il prezzo frena molti acquisti, però la consapevolezza che abbiamo è quella di ritornare verso un'agricoltura diversa, non un'agricoltura iperindustrializzata e soprattutto il consumatore ha dato modo, dato prova di essere molto più consapevole di quello che era un tempo fa. Tant'è che la nostra agricoltura va verso una sostenibilità ambientale sempre più spinta e questa ne è l'ennesima riprova. Le ragioni sono dovute, come evidenziato anche dai rapporti Istat, sull'uso dei mezzi di produzione, dall'ampia adesione degli agricoltori alle misure agroalimentari e della politica agricola comune, all'introduzione di tecniche agronomiche innovative meno impattanti sull'ambiente, all'entrata in vigore del piano per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che è un'attuazione della direttiva CE del 2009 e dall'attuazione della direttiva Nitrati per i fertilizzanti. Appunto l'Europa ha disciplinato ancora nel 2009 un quadro per un'azione comunitaria di utilizzo sostenibile dei pesticidi, allora si chiamavano ancora così, in Italia poi applicata con il piano nazionale che è in corso di aggiornamento proprio in questi giorni e che vede le consultazioni iniziate la settimana scorsa per modifiche che si rendono assolutamente necessarie, viste il passare del tempo rispetto al 2009. Tante sono le novità anche in campo agricolo che giustamente il piano va assolutamente rivisto. Per di più, in questi giorni nella Commissione Ambiente del Parlamento Europeo si è discussa e si è votata una risoluzione che non è ovviamente giuridicamente vincolante sull'applicazione della direttiva sempre 128 concernente l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in cui si chiede che siano resi pubblici gli studi utilizzati nella procedura di autorizzazione di un pesticida, compresi tutti i dati e le informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione. Questo aveva un limite all'interno dei brevetti di ciascuna ditta che la legge consentiva di non divulgare, di non ammettere immediatamente quali erano i dati del proprio prodotto. Oggi c'è una forte richiesta in più di informazione e in questa risoluzione è oggetto di questa risoluzione. I richiedenti sono tenuti a registrare tutti gli studi regolarmente eseguiti in un registro pubblico e che la procedura di autorizzazione consenta un periodo per le osservazioni per tenere conto di tutte le informazioni pertinenti prima si è presa una decisione. Si è rivalutata la cancerogicità del glifosate fissando livelli massimi di residui per i suoli e le acque superficiali. La Commissione europea svolga uno studio epidemiologico sull'impatto reale di prodotti fitosanitari sulla salute umana. L'Unione europea stimola innovazione e promuove la commercializzazione di pesticidi a basso rischio. La Commissione assegna la valutazione delle domande di rinnovo dell'autorizzazione di un pesticida ad uno Stato membro diverso da quello responsabile delle precedenti valutazioni. Tutto questo è nel solco di un'assoluta maggior trasparenza che si rende fondamentale quando parliamo di salute pubblica ma anche della consapevolezza di quale sia il problema ma anche che bisogna anche trovare in fondo delle soluzioni. È evidente che questo si aggiunge anche al regolamento 1107 del 2009 che è relativo all'emissione sul mercato di prodotti fitosanitari e che prevede che non possono più essere ammessi in commercio prodotti fitosanitari che siano cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione. Chiaramente tutto questo ha delle forti implicazioni poi sull'utilizzo e questo vanno abbinati anche a più severi controlli che devono essere ovviamente messi in atto perché quando si parla di salute pubblica e di salute dei cittadini è evidente che l'assoluto obiettivo deve essere quello. Però l'esigenza primaria non è quella di vietare il ricorso dei prodotti fitosanitari almeno fino a che non vi siano delle alternative agli stessi perché sarebbe uno shock oggi se dovessimo privarci immediatamente di quei prodotti che all'agricoltura, ricordiamolo, servono perché consentono di poter continuare a coltivare. Anche perché oggettivamente è un momento irrealistico, anche perché abbiamo l'aggiunta dei cambiamenti climatici in atto che stanno portando nuovi parassiti. Pensiamo al virus tristezza degli agrumi, al punto del ruolo rosso, alla cimice asiatica, tutti nuovi parassiti con una maggiore aggressività che naturalmente sono introdotti dal cambiamento climatico. Inverni meno rigidi e estati assolutamente più caldi fanno sì che prolifichino altri insetti, oltre che alla globalizzazione anche dei commerci che di fatto rende incontrollabile qualsiasi importazione nel nostro Paese. In realtà dovremmo ricondurre il procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio di tali mezzi di produzione ad una maggiore trasparenza che attualmente è compromessa proprio dal fatto, lo citavo prima, che le società produttrici dei prodotti fitosanitari invocano la clausa di segretezza degli studi conseguente alla tutela brevettale. E questo è uno dei problemi su cui bisognerà naturalmente lavorare. Infatti noi auspichiamo che venga, e lo chiediamo anche nella nostra mozione, venga attuato un registro pubblico accessibile a tutti con i dati degli studi presentati per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato prodotto fitosanitario. L'EFSA, inoltre da parte sua, dovrebbe commissionare studi supplementari ad enti pubblici super partes per rafforzare l'obiettività e la trasparenza del provvedimento autorizzatorio. Il ruolo dell'EFSA ha infatti messo in discussione attualmente anche a sedio della vicenda del glifosate in cui la procedura di autorizzazione vigente ha mostrato tutti i suoi limiti nel contrasto tra pareri scientifici da una parte non riconducibili ad un'unica posizione senza che si sia operata un'adeguata distinzione tra il concetto di pericolo ed il concetto di rischio. Ma EFSA ha mostrato anche i suoi limiti nel non saper comunicare ai consumatori la diversità dell'impiego del glifosate che in Paesi come l'Italia dal clima mediterraneo viene usato solo in fase di presemina, mentre in Paesi come il Canada anche in posta raccolta come dissecante, il che aumenta ovviamente l'impiego in termini coattativi del prodotto e l'esposizione ambientale sulla salute umana. Al di là della trasparenza poi bisogna concentrarsi anche su un altro tema che è molto sottovalutato e all'investimento della ricerca perché non si possono escludere dal mercato sostanze attive senza individuare delle alternative percorribili per le imprese agricole creando nei vuoti la difesa fitosanitaria e lasciare le culture esposte ad avversità e parassiti con danni economici rilevanti. L'obiettivo è evidente e è perorato anche da noi è quello di sostituire progressivamente le sostanze attive di sintesi chimica per quanto possibile con sostanze attive di origine naturale, i cosiddetti bio-based products che vanno ad arricchire la cassetta degli attrezzi della produzione integrata dell'agricoltura biologica nel difendere le culture. A tal fine il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell'Ambiente dovrebbero finanziare un programma di ricerca a lungo periodo che consente di avere i dati sperimentali necessari perché le società produttrici di fitosanità abbiano interesse a registrare nuove molecole. Sarebbe questa un'istanza da far presente anche a livello europeo perché ad esempio da una parte le risorse comunitarie destinate in agricoltura siano finanziate solo ed esclusivamente a tale obiettivo. Il tema poi dell'impiego dei prodotti fitosanitari deve essere affrontato con un approccio multilaterale ed internazionale al di fuori dei confini della stessa UE nell'ambito delle norme del Codex Alimentarius perché non ha alcun senso vietare l'uso di alcune sostanze attive ad elevata tossicità nel mercato europeo per poi consentire che prodotti importati arrivino al consumatore con residui di prodotti fitosanitari cancerogeni o mutagini perché autorizzati nei paesi extra-UE. È il caso ovviamente del Canada con il contratto del CETA che ovviamente destra delle perplessità proprio perché lì vengono autorizzati trattamenti molto più massicci e che penalizzano ovviamente l'importazione e le merci che noi utilizziamo. Tant'è vero che un'associazione di categoria ha effettuato uno studio comparativo sui prodotti fitosanitari autorizzati dall'UE ed in Canada in occasione della cortocetta è stata evidente la differenza. Numerose sostanze attive ad elevata tossicità viettate da tempo nell'UE sono ancora autorizzate in Canada. Se una sostanza attiva è cancerogena deve essere eliminata dal mercato mondiale e non soltanto in un'area commerciale. La tutela della salute umana e dell'ambiente è un valore universale mentre le disparità delle diverse legislazioni in materia di prodotti fitosanitari sta non soltanto creando gap concorrenziali tra imprese agricole localizzati in diversi Paesi ma anche esponendo i consumatori ad un rischio incontrollato e soprattutto inconsapevole. È evidente che in conclusione è un'opinione condivisa che occorre perfezionale legislazione che disciplina l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e il loro impiego. Meno che tale obiettivo possa essere perseguito realisticamente contrapponendo l'agricoltura biologica alla produzione integrata in quanto complessivamente la PAC oggi è oggettivamente tutta orientata ad un modello di sostenibilità molto avanzato e che ha consentito oltretutto all'Italia di avere residui di tali prodotti sui alimenti più bassi del mondo. Grazie.